I dati Istat sono fondamentali perché comunque ci danno visibilità su quelle che sono le tendenze di mercato e quindi ci aiutano ad orientarci su quelli che poi sono gli sviluppi che potremmo proporre sul mercato per avere una maggiore penetrazione. Dove orientare gli investimenti che l'azienda sta facendo sia a livello di formazione del personale sia come ricerca di competenze sul mercato del lavoro per essere pronti ad affrontare quelle che sono le sfide del mercato e anche per capire come organizzare e strutturare l'azienda per affrontare quei mercati su cui abbiamo deciso di investire. La tendenza a quali tipologie di investimenti le aziende fanno soprattutto nel mondo della digitalizzazione perché noi di questo ci occupiamo e quindi capire quali sono i trend di investimento su questi ambiti per noi è determinante.